Segna Infantino e sogna il Catanzaro, quinto in classifica, soli sei punti dalla vetta. La vittoria contro il Catania, ora il derby dominato dai ragazzi di Auteri. Un appunto, l'unico appunto possibile, che il gol arriva tardi, troppo tardi, in un match giocato soprattutto nel primo tempo, esclusivamente nella metà di campo difesa dagli Amaranto. Ma tra i palici è un grande confemte, il migliore tra gli uomini dicevoli, decisivo in almeno tre occasioni. Il derby numero 60 tra Catanzaro e Regina conferma le previsioni della vigilia, con le acule in gran forma lanciate alla conquista dei play-off, mentre gli Amaranto attraversano un periodo difficile dentro e fuori dal campo. E per l'undici dicevoli, la prossima partita, in programma il 2 dicembre contro un non irresistibile Rieti, assume già i contorni di uno spareggio salvezza. Il Catanzaro se la vedrà invece con la Cavese, l'obiettivo è allungare la striscia di vittorie che ha portato le acule tra le migliori formazioni del Girone C.